www.foodglory.com trovate il link nella descrizione fateci un salto e buona visione Bella a tutti ragazzi ben ritornati dal vostro gioco siamo tornati signori sul Roto Division 1 allora siamo qua oggi finalmente con questa squadra siamo in divisione 3 ragazzi siamo tornati in divisione 3 ho cambiato anche i numeri delle maglie ai nostri giocatori infatti come vedete qua se non sbaglio non so come farvelo vedere ma ho messo il numero 7 a Cristiano Ronaldo e ho sistemato alcuni giocatori anche qui quindi ragazzi siamo prontissimi a andarci a fare le nostre due partite della prima scusate delle prime due partite della divisione 3 speriamo ovviamente di vincere perché ovviamente sono proprio le prime partite quelle a decidere diciamo un po' anche la sorte diciamo del Rodrigo One quindi speriamo bene ovviamente ragazzi vi lascio un bel po' in su arriviamo a 18.000 like anche in questo episodio mi raccomando voglio informarvi che oggi alle 14 dobbiamo uscire un pacco bene per quanto riguarda i toti dello spacchettamento solamente che è uscito per quanto riguarda i toti su Food Glory quindi ovviamente se vi interessa per quanto riguarda Food Glory prendi i gridi e cose varie andatevi a vedere il video delle 14 che è veramente bello e domani alle 14 nuovo pacco opening ragazzi questi giorni ci saranno molti spacchettamenti perché lo sapete che quando ci sono i toti o cose importanti mi dedico molto a questo anche perché ovviamente se trovo giocatori buoni nei pacco opening ve lo porto senza problemi il video comunque concentriamoci qua appena ci troverà l'avversario andiamo subitissimo a fare queste grandi partite ed eccoci qua ragazzi con il primissimo avversario con una serie A veramente spettacolare quindi siamo prontissimi ragazzi ad andare a fare questa primissima partita in questa primissima divisione 3 e poi primissima divisione 3 col cazzo perché è la seconda volta che sto in divisione 3 la prima volta sono stato retrocesso come un bimbo però vabbè purtroppo ci ha detto molto male nella prima volta che siamo arrivati in divisione 3 speriamo più che altro di farci qua ragazzi quindi veramente ci tengo a vincere queste prime due partite perché sono molto 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 importanti poi anche è vero signori che da questo momento si trovano giocatori molto forti quindi lasciamo molta attenzione eccolo subito Suarez Suarez guarda subito che mi ha parato porca miseriaccia per Gareth Gareth eccolo oh madonna mia bello vai Gareth vai Gareth Gareth e qui ci tira di potenza signori e c'è il primissimo gol di Gareth Bale dai così ragazzi 1 a 0 molto importante eccolo no ho sbagliato ho sbagliato regà tasto dovevo passare la filtrante alla gol cioè ma stiamo rendendoci conto di quello che ha qua che cazzo ha potuto fare con quel pietino di merda mica l'ha presa la palla che gol è regalato mamma mia che gol è regalato ragazzi cioè guarda lì guarda no vada fallo vedere porca miseria grande Neymar grande Neymar vai così subito Suarez 2-1 ragazzi anche se stiamo in svantaggio mamma mia Neymar ragazzi mi piace troppo è perfetto Neymar poi fa una grande intesa comunque lì con Suarez quindi è spettacolare proprio il nostro grandissimo Neymar bello bravissimo e va a vincere ragazzi va a vincere questa prima partita anche con un espulso e senza il nostro Cristiano Ronaldo però adesso ragazzi no voglio continuare così perché stiamo dominando proprio e i primi 3 punti per noi ma dobbiamo stare attenti perché non abbiamo Iniesta mi tocca a mettere Mesa o Fabergast o qualcun altro vediamo un attimo chi posso mettere eh madonna tutti i roti senza contratti allora tocca a togli Iniesta purtroppo e mettiamo Rodriguez dai Iniesta lo mettiamo qua ed eccoci qua ragazzi con il nostro secondo avversario un'ottima squadra per lui però c'ha quel tridente lì davanti che non fa intesa quindi potrebbe essere una cosa molto positiva ma non è mai detto ho fatto entrare subito Cristiano Ronaldo ragazzi ho messo anche Rodriguez Neymar l'ho tenuto in panchina lo faccio riposare perché un pochino poi se eventualmente ci dovesse servire lo andrò a sostituire a posto di Rodriguez perché comunque Iniesta sta fuori giochi ragazzi quindi peccato ho fatto una cazzata per andare in espulso però abbiamo vinto comunque da uno speriamo di vincere anche questa seconda partita vediamo un po' eccolo qua subito è partito il nostro Ronny signori è partito il nostro Ronny Ronny no che me so cagato Mario esci mamma mia grande c'è proprio il culo che te puzza fatto dico tutto il culo re mazza che golla che mi ha fatto regà niente c'è il culo che te puzza lo stesso ma sto giro per motivo mazza che bel golla che mi ha fatto questo ragazzi fammo rivedere un attimo da me perché è il segreto guarda che tiracino spettacolare che ha fatto sto bastardone buono eccolo Ronny al volo 1 a 0 subito il pareggio di Giovinio subito il pareggio tutto il volo il nostro Cristiano non ha la schiaffa in porta ragazzi Ronny con la deviazione ragazzi scusate il silenzio ma era un attimo concentrato guarda qua lì bambà e il 40 latrone sta arrivando fatto pure l'arima mamma mia che bucio questo ragazzi qua mi ha detto un gran bel culetto che l'ha deviata non so se fosse stato comunque gol distanza di 4 minuti di gioco Giovinio segna la doppietta personale con Cristiano Ronaldo guarda guarda lo cazioncina eccolo Giovinio porca di quella trottetta quella trotta proprio quella che puzza di Riccardo Scamarcio proprio non so manco io che sto di guarda che tocchettino di classe proprio ecco ancora Suarez oh è morto ah punizione ma non stava dentro mi sembrava fosse dentro vabbè Gareth Bale Gareth Bale ci prova ci prova Bale era buona molto buona e ci prova di testa porca vacca ci prova Ronaldo dal volo e ci prova lui di pallonetto ma che cazzo stiamo a combina se la raccata è andata a raccogliere le cipolle non mi preoccupate vai così Neymar 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 sono solito ragazzi Neymar si smacca anche in portieri zitto zitto la velocità della luce proprio fallo 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 ragazzi ora che lo facciamo sulla posizione sul punizione che lo possiamo fare eccolo qua Gareth e Bale e Gareth Bale ve l'ho detto ragazzi il cerchino Gareth Bale fa il cuoricino se ne va verso la telecamera ancora il cuoricino dove sta eccolo qua tutti a per voi signori tutto per voi che state a casa a seguirmi ogni giorno a sfragassarvi i coglioni con i miei video tutto per voi ragazzi go sul punizione del Gareth Bale e va a vincere il giocherino oggi è abbastanza facile le partite signori 5 a 1 massacrato questo si è proprio fermato proprio e termina qua ragazzi questa fantastica partita stravinta per il giocherino ragazzuoli questo video è arrivato al termine purtroppo mi ci sono divertiti veramente un casino ci siamo conquistati 6 punti per noi pari pari in culo al cartaro proprio 9,6 entrambi i giocatori Suarez e Ronaldo ma uomo partita ragazzi Suarez ovviamente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando se fosse così anche per voi un bel pollice in su commentate condividete passiamo già facebook instagram come sempre in descrizione 15 tiri 13 in porta veramente l'86% perfette queste partite passate al foot glory ragazzi come qua sempre nella descrizione vedete il video dei 14 se non l'avete visto noi ci vediamo domani con dei prossimi video tutti i social in descrizione come facebook e pagina instagram al prossimo potente del vostro giocorigno ciao ragazzi